ciao amici bentornati nel mio canale oggi andremo a vedere un nuovo arrivo da parte del nostro utente del canale vincenzo che mi ha spedito questo bel pacchettone come come già anticipato nel video precedente perché non se l'avesse visto perché non l'avesse visto può andare a vedere ho deciso di non fare più un vero e proprio unboxing precipitiamoci quindi direttamente nel laboratorio quindi come al solito banda le ciance e andiamo a vedere cosa contiene dentro d'accordo ci troviamo davanti ad una miga 500 plus di vincenzo che a dire il vero non è messa proprio benissimo nel senso dal punto di vista estetica estetico molto ingiallito ma un ingiallimento un po particolare sporco a macchie non è proprio probabilmente causato solo da un problema di mancanza di retro brighting o comunque di di il sigillo di garanzia è stato rimosso una vite centrale probabilmente è stato sostituito con qualche altra cosa perché nella parte di qua è sfondata come se avessero messo una vite più alta beh vediamo l'interno in che modo come ne siamo messi ecco questa è una tastiera un po particolare che avevo dimenticato col doppio flat che è stata già aperta e purtroppo non richiusa mancano totalmente le viti per lo shell che è un po un problema nel senso che queste potrebbero muoversi andare a fare cortocircuito da qualche pista vicina beh non è una bella cosa comunque andiamo avanti linguetta saltata solo questa che è saltata anche adesso tra l'altro ok ci troviamo di fronte una revisione 8a della mica 500 la batteria ha già fatto il suo brutto lavoro di ossidazione e spero non abbia causato molti danni vediamo che l'acido della batteria già iniziato a creare i suoi danni vediamo dalla parte opposta anche qui è presente dell'ossidazione probabilmente questo ha causato qualche interruzione di qualche pista infatti da questa zona del della mica 500 passano le piste che vanno sul cia b quello che gestisce il drive il nostro vincenzo si lamentava della impossibilità di caricare qualunque cosa dal drive sia interno che esterno d'accordo il danno alla batteria della batteria ormai si vede fatto purtroppo ci tocca aprirlo completamente togliere il drive eliminare la piastra eliminare la batteria e verificare le piste che si trovano al di sotto della batteria stessa e nelle zone limitro quindi non ci rimane che eliminare sono state anche eliminati già le viti del drive quindi è stato rimosso anche il drive insomma una macchina che qui è stata tentata non so se da vincenzo stesso una riparazione per rimuovere la piastra necessario svitare totalmente tutti i distanziatori vabbè non vi faccio perdere tempo solto trucchetto d'accordo e ora che ci siamo sbarazzati dello shield inferiore possiamo andare a vedere la nostra piastra ok l'acido non ha toccato il button layer per cui ancora la sua la situazione non è abbastanza limitata rimuoviamo immediatamente la batteria andiamo al lavaggio e poi andiamo a collodare la macchia e come si vede qui ha iniziato a fare già i suoi danni questa schiumettina qua è parte dell'acido da qui poi parte l'ossidazione questo diodo è ossidato questa pista è ossidata anche sull'altro polo c'è un po' di roba ora bisogna vedere se sembra apparentemente di no però ogni volta che trovo la batteria del 500 plus in queste condizioni con l'ossido qui trovo sempre qualche pista che praticamente purtroppo è andata via non ci rimane che pulire la piastra ritornare e testarla sul banco d'accordo e qua ci troviamo di fronte alla situazione di prima dopo il lavaggio della piastra quindi abbiamo come si vede eliminato l'ossido e l'acido della batteria è tutto pulito rimane ovviamente traccia dell'ossido qua ma è andato via per esempio dal dal diodo in ogni caso abbiamo bloccato il processo di ossidazione per cui adesso andiamo a testare la macchina e vediamo che cosa succede d'accordo siamo pronti ad accendere la nostra macchina avviamola ok il kickstart 2.0 è caricato regolarmente proviamo ora a caricare un programma carichiamo il classico workbench ok mi dà un errore di blocco probabilmente a causa della testina ma comunque l'accesso al disco lo fa apriamo il drive e verifichiamo le condizioni del drive facciamo la solita pulizia delle testine beh quella di sotto non mi sembra male d'accordo a me il drive non sembra che abbia testine sporche comunque andiamo a riprovarlo ed eventualmente proviamo prima a controllare l'integrità della cia della nostra miga e poi eventualmente sostituiamo il drive ok la rom diagnostica inserita accendiamo aspettiamo che carichi andiamo direttamente in cia test 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 cia quindi la cia è buona la cia b è quella che invece a me preoccupa per il caricamento del drive e invece no funziona anche la cia b d'accordo sembra allora che la batteria non abbia causato il solito danno della miga 500 plus probabilmente si tratta di un non drive veramente pessimo allora a questo punto proviamo a sostituire il drive e vediamo se la nostra macchina funziona d'accordo abbiamo sostituito il suo vecchio drive abbiamo messo il nuovo abbiamo sistemato la batteria controllato alcune piste del cia e verifichiamo se adesso funziona avviamo l'amica 1200 e andiamo ad inserire la front table alziamo un attimino il volume e incomincio a caricare alziamo un attimino il volume Grazie a tutti. 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 Ora non mi rimane che mettere un nuovo drive, chiudere l'Amiga e fare in modo che il nostro Amiga 500 Plus torni al nostro utente Vincenzo. Con questo video è veramente tutto. Come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace qua sotto. Se non siete iscritti al canale vi farebbe piacere iscrivervi. Questo mi incentiva a fare sempre molto di più e sempre molto meglio, come dico, ad ogni singolo video. Quindi per il momento è tutto, grazie e al prossimo video.